Ci ha colpito una disgrazia! Ah! Sorta da fermo, no? Puoi andare in giro vestita così? Che ho voto qua? Chi se ho posto mio? Lavori, lavori, che lavoro fai? Fa la zoologa. Io non sono zoologa, sono sessuologa. Metti che a uno non gli si arrivi tu. Eh, quello... Una donna che non lavora come fa a pagare l'affetto, il bolletto, la luce? Con sesso, un mestiere più antico del mondo. Uffale niente. Io e mia moglie non l'abbiamo fatto mai. Sono due anni, Aurora, che noi non facciamo l'amore. Perché ti sei dimenticato quella serata in quella pensioncina dei barri, eh? Fu una guerra, fu un due anni, mi dici. Mi hanno detto che se la prima volta lo fai senza il preservativo non si rimane. Ma non tenevi niente di più sexy. Cioè, se tutta te voli, niente pratica. Oh, è cara. Lo fa così per passione. Progespertissimo, eh? Eh, ma mo' la freghiamo noi alla furbetta. E come, come? Ho un piano diabolico. Sì, è che devo arrestare. Sì, sì, sì. Quei due euro fanno l'amore. Sono vestiti, non vedi? Tu non capisci proprio niente. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.